Ciao, io sono Ola, e amo i tagli abbracci. Sì, è come Ola! Ci sono io. Pensa, che cosa hai fatto? Non lo dormi di più! È stato un incidente. Mi dispiace, Anna. È fredda come il ghiaccio. So dove dobbiamo andare. Sì, è stato un incidente. Oh, se no, che cosa ti ho fatto mai? Se tu vuoi spieghermi con me, faremo un bambino di un bambino di un bambino di un bambino. Sì, è bello, Anna. Oh, che so. I guanti ti aiuteranno. Vedi, ce l'hanno. Domani, non lo staranno. Se già svegli ho pure e dormi, puoi fare un cielo insieme a me. Non ne ho il tempo, non ne vado più. Parlare in quadri non diverte, poi neanche... Verma, Giovanna. Non giochiamo con la neve. Oh, freaky boy. Ma esci, ti prego, dai. Ho paura, è sempre più forte. Agitarsi, peggiori sono le cose. Cala di te. No! Ci vediamo fra due settimane. Dovete proprio andare. Anna, tutto per un bene, ma Elsa. Sì, ti prego, dai. Elsa, puoi lasciarmi andare, prima di sempre un canto a me, vorrei capire perché proprio tu non puoi avermi più insieme a te, ed ora che faremo, siamo soli ormai, quale conforto avrò? Ora tu mi non c'è troppo